Dottore, il 25% circa della popolazione pediatrica è a rischio obesità. Quanto è importante insegnare fin da piccoli e anche nelle scuole la cultura dell'alimentazione corretta? Io direi che è centrale perché i nostri ragazzi, lo sappiamo tutti, vent'anni fa negli Stati Uniti si parlava di divano e patatine, stavano alla tv e mangiavano in maniera smodata. Ad oggi stanno alla Playstation e mangiano merendine, snack e non per una qualità del cibo, per un gusto, ma in maniera più spesso ansiosa, in maniera più spesso compulsiva, favorendo piuttosto gli aspetti propriocettivi rispetto a quelli gustativi. Cioè, studiamo un po', andiamo a fare una partita e mangio qualcosa, un attimo lo studio, andiamo al frigorifero, faccio un panino, ma un panino sarebbe ancora bene perché poi è più facile prendere uno snack, prendere una merendina, prenderne due e quindi questo favorisce naturalmente un incremento ponderale che poi è molto difficile da eliminarsi in epoche successive della vita. Dottoressa, la Fondazione Carispezia, con il bando applicato alla ricerca in campo medico, ha deciso di finanziare un progetto di cibo e mindfulness nelle scuole. Perché? Un progetto che ha sicuramente dei risvolti importanti dal punto di vista socio-sanitario, vede la collaborazione dell'ASL, quindi la neuropsichiatria del professor Giovannoni, del Comune della Spezia e quindi fondazione, diciamo così, che attraverso questo bando spera che si possa realizzare non soltanto una ricerca scientifica, quindi fatta da un ente a livello nazionale, ma anche una vera e propria prevenzione perché con un'alimentazione corretta i problemi degli adulti saranno inferiori e costi inferiori per la società. Professore, è vero che la selettività alimentare nei bambini può essere modificata anche tramite l'assaggio, modificando quindi a scuola, anche oltre che in famiglia, i comportamenti alimentari? Certo, quello che noi stiamo cercando di fare è di individuare qual è il miglior programma, il miglior metodo per cambiare questa selettività. Quello che noi sappiamo è che ci sono sostanzialmente tre principi. Un principio che riguarda l'imitazione, quindi i bambini si imitano fra di loro e imitano modelli positivi. Il secondo principio che le accennava, che è l'assaggio ripetuto, più assaggio, anche piccolissime quantità, maggiore è la facilità con cui io mi approccio al cibo perché cambiano alcune proprietà della mia fisiologia e il terzo principio è quello del sostenere l'assaggio con incoraggiamenti o anche con piccoli premi concreti fino a quando questo assaggio non si trasforma in consumo. Grazie a tutti.